Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato senza mezzi termini siamo in guerra e il nemico è il coronavirus. Per il capo dell'Eliseo si tratta di una gara di velocità e la Francia è solo all'inizio dell'epidemia ma lo Stato tiene. Grato ai ministri a disposizione H24, polemico con chi lo ha criticato. La Francia secondo lui ha attivato i suoi sistemi anche prima che l'OMS dezza l'allarme e ora sta facendo pressione sui suoi partner europei affinché seguano l'esempio del piano di emergenza della BCE e mostrino solidarietà di fronte alla crisi del coronavirus. Il ministro dell'economia francese Connole Maire ha avvertito oggi che se l'Unione Europea abbandonerà l'Italia lui non si riprenderà più. Quello che tuttavia non vede Macron è lo sdegno di buona parte della popolazione per le elezioni dei sindaci tenute nonostante l'emergenza con un tasso di astensione record ma appunto alla guerra come la guerra.